Almeno nelle previsioni dell'estate ormai alle porte, le criticità del 2021 saranno solo un ricordo. Idricamente parlando, infatti, si prevede una bella stagione meno complicata della precedente, caratterizzata da interruzioni del servizio idrico e cittadini esasperati, perché, almeno allo sprint di partenza, quest'anno le fonti hanno più acqua, il che permetterà di garantire un servizio più efficiente almeno fino a luglio, secondo quanto fa sapere l'ACA, l'azienda consortile acquedottistica. Lorenzo Livello, direttore tecnico dell'ACA, fa sapere che... Il monitoraggio è positivo, perché rispetto all'anno scorso ci abbiamo una maggior dotazione delle sorgenti, parliamo delle principali sorgenti, il Giardino di Popoli, la Val di Foro di Pretoro e il Tavo di Farindola. C'è maggior portata in eccesso che viene attualmente sfiorata nei corsi d'acqua, cose che l'anno scorso invece non avevamo. Avevamo già i corsi d'acqua a secco, quindi abbiamo dei segnali importanti, noi abbiamo un piazzometro che è al campo Pozzi di Bussi sul Tirino, misura l'altezza del livello idrico della falda del Gran Sasso, a noi ci risulta un incremento dell'ultimo mese di 10 metri, quindi sono tutti segnali importanti. Inoltre stiamo vedendo l'incremento della sorgente principale, che è quella del Giardino di Popoli, rispetto all'anno scorso, in questo periodo, abbiamo 130 litri dal secondo in più. Noi l'anno scorso la minor portata del giardino la compensavamo con un maggior pompaggio del campo Pozzi-Bussi, quindi maggior costi energetici, perché dovevamo attivare delle pompe. Oggi ce le abbiamo ferme, quelle pompe. C'è poi un intervento che abbiamo fatto sull'acquedotto Vomano, da Pineto, ci sono delle pompe che pompano verso la litoranea, quelle acqua che ci viene data dal ruzzo. Abbiamo quella centrale che l'abbiamo potenziata di 100 litri dal secondo, quindi se ci dovesse essere una carenza sulla litoranea e il ruzzo potesse darci della portata in più, la potremmo pompare, cose che l'anno scorso non avremmo potuto fare. Più acqua alle fonti però non significa risolvere il problema delle reti con la brodo. Sono anni ormai che stiamo lavorando su questa cosa. Quale sarà l'intervento che ci farà fare un salto di qualità? Il PNRR. Proprio in questi giorni, il 19 maggio, scade il primo bando, l'ERSI sta portando avanti dei progetti insieme a tutti gli antigestori abruzzesi per richiedere 50 milioni circa per ingegnerizzare le reti, cioè ridurre le pressioni, regolare, telecontrollare e fare la mappatura delle reti. Dopo ci sarà una seconda finestra a ottobre a cui parteciperemo sempre per importi superiori e lì prevederemo invece la sostituzione delle reti.